Arte contemporanea per liberare la creatività condividendo tempo e spazio imparando ad entrare in relazione con gli altri ed in contatto con le proprie emozioni rendere visibile l'invisibile agli occhi, rendere visibile coloro i quali spesso sono considerati invisibili è il progetto Le ferite dell'uomo della Caritas di Ocesana di Andria al cui interno è stata presentata l'esposizione di arte contemporanea visibile frutto dei laboratori di pittura svolti in collaborazione con Unitalsi e Cooperativa Sociale Trifoglio In questo progetto hanno preso parte in maniera attiva la Cooperativa Trifoglio e l'Unitalsi e ha portato alla realizzazione di queste vere e proprie opere d'arte che ci presentano volti di una umanità profonda, piena, trasmette sicuramente gioia, voglia di vivere veramente un umano che fiorisce Una mostra nella quale i volti raccontano più di mille parole è una mostra nata all'interno del Museo Gecesano di Andria dopo aver realizzato un progetto interamente rivolto a persone con disabilità guidati da due maestri d'arte come Thomas di Terlizzi e Daniele Geniale La mostra continua ad essere allestita e visitabile anche in questi giorni in cui all'interno del Museo Andriese è in corso di svolgimento la diciottesima edizione della Settimana Biblica di Ocesana San Tommaso La Settimana di San Tommaso di quest'anno ha come tema tre verbi perché l'umano fiorisca e ben ci sembrava si adattasse a questo tema la mostra promossa dalla Caritas di Ocesana che in realtà è un'opera a segno è un frutto del cammino dell'anno giubilare della Sacaspina che abbiamo celebrato in tutta la diocesi lo scorso anno Grazie